bella a tutti boys eccoci finalmente dopo il primo video deve essere sempre cringe oggi disegneremo cose a caso tra cui un panda dobbiamo disegnare un panda sarete voi a decidere quale sarà il panda più sexy partiamo subito voi vedrete solo il mio se avrò voglia di montare anche il suo video si no dopo si lo mandi no non me lo manderai no è troppo brutto sta roba cosi no vengono brutto è uno brutto il mio ma schifo poi io si vengono trosti con botte perchè lo voglio fare puccioso i miei fanno schifo mi dispiace gente non sono brava disegnare io ce l'ho intendo e io ho le dita eh quanto sono povera no è qui il computer che userò per montare sto video è uno brutto è della scuola che c'era di fronte io però vuole il mio pc non è giusto vuole il mio pc non è giusto Grazie a tutti. 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 Aspetta che ti faccio anche la firma. E poi intanto disegna cosa. Anche ci voglio fare la firma. No scherzo, mi dato l'idea di farla. Bene, fatto. Ok. Ho quasi finito. Faccio la firma. Che bella. Questa è la nuova smascotta del canale. Vabbè ragazzi. Con questo non possiamo fare altro che salutarvi e ci becchiamo in un prossimo video. Bella boi. Ciao. 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 Grazie a tutti.